Musica Buongiorno a tutti, siamo ad Andalo nel centro paese, la location è l'hotel Cavallino Loveli. Quest'anno compie 50 anni e siamo con le proprietarie, la signora Anna Maria che è la mamma e la signora Susi che è la figlia. Allora partiamo con la signora Anna Maria, ci racconta un po' la storia di questo hotel? Volentieri perché sono 50 anni che sono qui, quindi lo conosco bene. Bene, siamo nati quando qui ad Andalo nascevano i primi hotel, quindi siamo stati tra i primi e poi nel nostro percorso da due a tre e poi siamo stati i primi anche a fare le quattro stelle qui ad Andalo. Quindi siamo anche un po' ambiziosi di questo. Nei 50 anni la nostra prerogativa è sempre stata quella di migliorare, di seguire un po' anche le tendenze dei clienti, di capire le esigenze. Quindi abbiamo poi fatto anche il centro benessere, strada facendo, proprio in linea con quello che anche il cliente, che è cambiato chiaramente, richiede. Abbiamo anche poi un'ultima, attuale idea che viene specialmente da mia figlia perché logicamente sono anche i figli che devono seguire e cambiare un po' le cose. Questa idea di fare, che poi abbiamo già iniziato, di fare un hotel green. Ecco, quindi stiamo lavorando già da diversi anni, per esempio, usando prodotti a chilometro zero. Abbiamo anche il nostro orto, che è una passione di mia figlia. E quindi serviamo anche prodotti proprio locali, ma anche se naturalmente dobbiamo comprarne, ma anche lì teniamo sempre a fare quello. Recentemente, in primavera, abbiamo rifatto qualche stanza e le stiamo facendo proprio in linea green. Si chiameranno camere del bosco, camere nel bosco, quelle camere che abbiamo intenzione di finire, insomma, quest'autunno. Quindi, se qualcuno d'inverno vorrà venire, si troverà a dormire anche in una suite chiamata suite del bosco, con tutti i materiali naturali e scelta anche di risparmio energetico. Abbiamo comprato il cogeneratore, per esempio, cioè anche delle fonti, diciamo così, di energia più adeguate a quello che è la nostra linea. Ecco, facciamo anche delle iniziative qui in casa con gli ospiti, di piantare un albero, rinunciando magari a fare la stanza per un giorno. A quel modo lì noi offriamo qualcosa perché venga piantato un albero. Risparmiamo da loro e piantiamo un altro. Ecco, tra le varie attività di intrattenimento c'è un'attività che è quella del, diciamo, dello yoga, che praticate proprio all'aria aperta. Sì, questa è stata un'idea di qualche anno fa, sempre di mia figlia, che è lei la maestra di questa linea, diciamo così. Ecco, e abbiamo proprio assunto una maestra di yoga che conosce molto bene anche il territorio, quindi porta, abbiamo anche la sala yoga quando il tempo non permette l'uscita, ma abbiamo proprio, ce l'ho sempre fatta apposta, la sala yoga. E poi lei però porta gli ospiti fuori, fanno yoga magari in montagna, la fanno fuori nei prati, la fanno in giro anche. Quindi è molto interessante perché si unisce questa disciplina anche, la si inserisce nell'ambiente molto bene. Ecco, quindi quella è una cosa anche interessante della nostra linea appunto che stiamo perseguendo. Una domanda che sorge spontanea, in 50 anni avete clienti che dall'inizio vi seguono e ancora oggi arrivano? Sì, sì. Ancora adesso in questi giorni qui abbiamo intanto una famiglia, ormai con i figli grandi, con figli a loro volta, che sono da 25 anni. Abbiamo qui una signora che viene da oltre 40 anni, ecco, e poi abbiamo anche altra gente che comunque verrà durante l'estate, uno che è una famiglia che sicuramente sono più di 40 anni. Adesso esattamente non lo ricordo neanche, ma sono venuti proprio i primi, primi anni. Ecco, e poi si ricordano tante persone che oramai purtroppo non ci sono più. Ecco, chi sono poi i vostri clienti? Da dove arrivano principalmente? Ma direi dipende un po', perché d'inverno sono tanti che vengono da Roma, ma negli ultimi anni, proprio è stata Roma che ha cominciato a venire ad Andalo, perché ancora allora si faceva pubblicità sugli autobus di Roma come località. Ma adesso abbiamo una clientela che viene anche da molto più vicino, no? Abbiamo Veneti, abbiamo Toscani, abbiamo anche dal sud, ecco, un po' dappertutto direi. Questi stranieri? Qui non è proprio posto da stranieri, però qualcuno, se vengono, tornano e poi tornano, perché si trovano, insomma, si trovano bene perché la località offre, ecco, oltre all'albergo offre molto anche la località. Benissimo. Allora Susi, invece, le volevo chiedere l'indirizzo internet per poter visionare l'hotel e eventualmente poter fare una prenotazione. Il nostro sito è www.hotelcavallino.com, dove trovate anche la prenotazione diretta per poter arrivare. Benissimo. Allora, qui da Andalo è tutto. Invitiamo, appunto, gli ospiti e coloro che ci vedono a venire all'hotel Cavallino Loveli. Da Andalo è tutto. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.